Comunque anche graficamente guarda c'hai i suoi anni ma è sempre bello Ah pioce tutto, io mi piace la grafica E mi fa conto quando è 2008, 2009 eh Eh ho capito però Ah ce l'ha un witz In effetti stiamo andando troppo veloce secondo me Aspetta 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 sta witch, spegnete le luci, non le illuminate E' morta già A scaricare, che che è? Andate piano porco, grissio porco E' un po' troppo il pepe Eh vabbè Oh cazzo I zombie che curano così più che altro, che piottano Ah Allora Non si muovono a fare il 3 di sto gioco, guarda perché Eeeh non si muovono a fare Half-Life 3, figuriamoci che è 4 dead 3 Vabbè la fine sta a molla eh Eh lo so Però Ma io secondo me non li hanno neanche iniziati, ma è giusto per... Qua sono iniziati ma non ci stanno so Ma come si fanno a finanziare dei giochi del genere? Io non lo so più Eh palvo c'ha troppi pensieri per la tenda Sì ma poi finanziare dei giochi, vabbè Sì ma poi finanziare dei giochi, vabbè Sanno un po' qualcosa qua Sanno qualcosa Sanno qualcosa Cioè come fanno un Half-Life 3K Cioè fa... E' un investimento sicuro proprio Doki Eccolo Oh Oh, sempre a te eh oh Mamma bella Oh mi pare che cambiano le munizioni di meno Trovi meno medikit e muori più meno Vabbè affanculo Comunque diventa quasi al limite dell'impossibile Quello è già normale Hanno certe campagne che ci arrivi pelo pelo se non giochi realmente di team Ma porca malca Ma che rampo? Vogliate chi è esperto in questo gioco? Ohhhh Qual è? Qual è? Armi serie La pistola La pistola La doppia pistola No, la K-47 Che sta No, la doppia pistola Il macete Tattica, questa è tattica Il macete è pure Il macete è pure Ma c'è E' un macete Ma c'è quello che c'è Il macete è un macete Ah! C'è passata le giornate degli anni vicino a sto gioco Stanno pure uno sacchi mod, comunque Eh, io quello ce l'ho installato Uno sacchi mod campagna intera è bello E io ho provato una, tanti anni fa Quella di... Silent Hill Eh, ma c'è il danno aria, capi? Quella è la che non dice una prova Bellissima La fa, comunque Te, bellissima M***a! C***a! C***a! Oh, munizioni incendiarie, venghino, venghino i signori Oh, tank! Dov'è? Dov'è? Sì, mort'è! Aspettate C***a! C***a! Stanno qua a terra No, sono già attivate Oh, no, no Con cosa mi curo? Ah, con le pillole Ok Ma che è overwatch? Che sta' una modalità tipo... Sono stati i rocchetti limpiti qua Ma sì, hanno fatto un evento estivo che parte da... Un po' di tempo Ci sono stato anche le casse con i... Ma lo limpiamo C***a! 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 L'Olimpiadi, quello sta il pugile della palestra dove mi alleno io Eh, ma ho visto che è arrivato qualcuno! C***a! 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 E' fuoco, fuoco C***a! Vado c'e' uno SCAR C'e' un M4 qua Uno SPAS Uccile da cecchini i vari Ah no, lo so la decita lì Ah! Qua c'e' un bel fucito... un bel mirino C***e! Vado lè Sì, ho detto Sash. Sì, vabbè. Mi fai curare? Certo. No, ragazzo. Ho preso, ho preso. Allora... Siamo pronti? No, no, guarda l'SD, oh! Ma che capire spada? E' uno, e' due, e' tre... Perché avete tirato una bomba? Allora... Sapete difendere? Hai mettato sto cazzo! Corro, corro! Aia! Aia! Stop shooting me now! I'mma reload! Da la la, man! Reload! Reloading! No! 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 Uba! Ma che è c***a c***a? Ma fottino! Proprio si sono fottuto lo stadio di Rocket League qua in Overwatch. Proprio l'hanno messo nella modalità. Spudoratamente. Proprio! Oh c***a stanziemi! Se andate avanti in quinta io non la faccio Si ma io non ne la faccio a starvi dietro Cioè io so uno che esplorano Oh f**to ragazzata Eh questo è ok Oh no Che succede? Perchè è caricato? Oddio ma fresco Perchè è caricato Ma non lo so E non se ne va più la schermata nera Eeeh 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 Eeeh